Altro shopping per Riccardo, questa volta da Okaibi o Obaby. Meravigliose creature e ben approdati di Rex in the Wonderland. Come vedi ho tante, tante nuove cosine da mostrarti per il mio piccolo, che tanto piccolo non è, perché già veste 12-18 mesi. Direi di partire prima con le maglie e poi con i pantaloni, così non facciamo confusione. La prima che ti mostro è questa, con la scritta blu e con tutti gli animaletti marini. Poi questa canottiera con il bordino giallo e con l'elefantino. Sempre per quanto riguarda canottiera, questa qui, di questo bellissimo azzurro, con il loghetto dell'azienda. Questa qui in blu, che secondo me è troppo troppo bella. Con questa stampa. Dietro sono semplici, quindi non hanno nessun disegno. Questa qui, che è adorabile secondo me, con il koala. Questa camicia con i canguri, troppo troppo bella. E questa qui con l'elefantino che fa snowboard. Poi scrivimi quale tra questa ti è piaciuto di. Per quanto concerne invece i pantaloni, ti faccio vedere questi qui, in rosso con l'elastico. Questi qui gialli, che erano incoordinati con una canotta di quelle che ti ho fatto vedere. Con la stampa di una giraffa e un elefantino su un camioncino. Questi di questo colore, che non mi ricordo come si chiama, mi devi scusare. Con le rifiniture celesti. La tazca, il particolare del koala. Quest'altro è blu. E questo cappellino che è reversibile. Quindi si può mettere da entrambi i lati. Ideale, secondo me, per andare a mare. E si allaccia tramite questi elasticini. Poi da Amazon ho preso due cosine. Una di cui sono rimasta talmente insoddisfatta, che non te la consiglio, però te lo dico che l'ho comprata. Perché così magari se ti capita di essere sull'e-commerce e ti serve questo determinato prodotto, non lo acquisti. E sto parlando di quella che si mette nella vaschetta per fare il bagnetto al neonato. Io ne avevo scelto uno, di un colore, cioè celeste, e mi è arrivato tutto un altro, e per lo più rosa. Odio quando succedono queste cose. Perché se io ordino un prodotto, me ne arriva tutto un altro? Comunque non lo rimanderò indietro, perché mi scoccia. L'importante è che funzioni, e chi se ne prega. Ma poi la cosa bella, tra l'altro, è che se vado a scorrere tra i miei ordini, ancora, compare che deve essere consegnato. E che arriverà a fine giugno. C'è una spedizione fatta con i piedi. Di tutt'altro avviso, invece, sono di questo giochino che ti voglio consigliare. Sicuramente lo conoscerai, perché è famosissimo. Si tratta della piramide, dove si devono infilare questi dischetti. E quindi il bimbo impara la coordinazione del movimento delle mani, e in più usa la logica, perché deve infilarli in questo tubicino. Inoltre, deve seguire un certo ordine. E poi impara anche i colori, ed è della chicco. Se vuoi comprarlo anche tu, ti basterà cliccare nel link che trovi nella descrizione di questo video e nel commento, in primo piano. Bene, spero di averti tenuto un minimo di compagnia. Se è così, regalami un like e condividi questo filmato su tutti i tuoi social. Ed io passo e vola via! Grazie! 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 Grazie!